Se vieni da una perdita è sempre difficile di riportare, ma se vieni contro il tuo migliore rival è ovviamente qualcosa di altro, ma abbiamo avuto una buona settimana, siamo preparati molto bene, sappiamo che siamo una squadra forte, possiamo perdere tutti i game, ma abbiamo bisogno di dare il nostro best, abbiamo fatto questo oggi e credo che i tre punti sono deservedi. Oggi sembrava anche una partita stregata, tante occasioni sprecate, un'occasione per loro è andata in porto, invece poi alla fine avete dimostrato la solita mentalità, avete portato a casa la vittoria. I top teams, devi venire i game come questo, non puoi sempre andare, tutto è 100% bene, credo che abbiamo giocato un gioco molto buono, potremmo scorrere più gol in prima giro, ma non è successo, hanno scelto un po' un po' con il primo gioco che scorrono, ma devi stare in gioco e credere che puoi vincere, questo è quello che abbiamo fatto, e questo è come vincere i game.